c'è stato un grandissimo critico che che è stato molto importante negli anni 80 90 però poi abbastanza dimenticato negli anni che hanno seguito ed è stato però l'ispiratore di moltissime cose dai movimenti ecologici al self help ai movimenti per la riappropriazione del proprio corpo quindi insomma è un personaggio chiave in qualche modo per capire dove siamo di lui in italia sono uscite una una parte delle cose che lui ha scritto nel corso di della sua vita e però sono un po sparpagliate tra vari editori questo è il primo libro che cerca di mettere insieme il suo pensiero e che lo mette insieme alla sua vita nel senso che poi appunto io l'ho scritto perché ho lavorato più o meno per vent'anni ho lavorato sono stato amico oltre a che fare con quest'uomo per circa vent'anni c'è dal dagli anni 80 fino fino al 2000 fino a quando lui non è morto e e quindi racconto in prima battuta in prima persona buona parte del diciamo della sua vicenda intellettuale di esistenziale è un libro a cui tengo molto perché è un libro che mi è costato moltissima riflessione scrivere molti anni sono passati da quando il lecce morta quando io ho scritto questo libro e però secondo me è un libro che oggi è molto importante perché in qualche modo tutti i temi di lì ci sono tornati estremamente alla ribalta sono sono dall'iscaldamento globale in qualche modo a una società che spegne completamente nella gente la speranza quindi insomma e soprattutto oggi lui è un pensatore che viene citato spesso però dalla gente che c'entra di meno c'è in qualche modo il lice sta va molto al di là no di una semplice critica diciamo dalla post modernità di una semplice critica del capitalismo è qualcuno che in qualche modo racconta un po l'archeologia dei malanni in cui siamo immersi e poi insomma è stato un grandissimo personaggio perché era un uomo al di sopra in qualche modo delle appartenenze anche di nazione parlava 14 lingue era un uomo che viveva tra il messico e la germania era un uomo molto conosciuto in italia in moltissimi ambiti ed è stato un personaggio diciamo di una levatura un po come i grandi pensatori della fine del secolo da fucco alla gente con il come lui quindi insomma secondo me questo qui è un libro che effettivamente rimette in ballo tutto il pensiero di vanillic e lo attualizza cioè ci fa capire perché in qualche modo un uomo del genere continua a sfidarci di vanillic e lo attualizzare